Ciao! Io sono Mila e il mio animaletto magico Morphle può trasformarsi in qualunque cosa io voglia! Morphle, trasformati in un grande camion! Dobbiamo portare queste macchine da costruzione al nuovo cantiere della città! Andiamo al nuovo cantiere! Forza, Morphle! Che c'è perché ti prendi il tutto il nostro amore? Non ci vuole, ci vuole! E' una maniera che è giusto? E' un problema che ci vuole fare! Noi, ci vuole, ci vuole o che vuole! Il nostro amore! E' un po' di nuovo l'arco! E' un po' di nuovo! E' un po' di nuovo! A un po' di nuovo? non succede questo nella mia città siamo arrivati eccoci al nuovo cantiere c'è anche un altro camion qui signore già è l'unica macchina che non abbiamo dovuto trasportare è venuto per conto suo sai si tratta di un camion dei rifiuti robot che abbiamo avuto dal professor song costruttore lorenz le tue macchine sono scivolate via dal camion e stanno seminando il caos totale nella mia città non è possibile il camion è del tutto vuoto come risolviamo questo disastro morfol e il camion dei rifiuti robot potrebbero cercare le macchine scivolate via sì questa è un'ottima idea morfol trasformati anche tu in un camion dei rifiuti che ne direste di fare un gioco che riesce a portare più macchine qui al cantiere vince ok morfol troviamo tante macchine forza il camion dei rifiuti robot è già riuscito a trovare una macchina ma saremo noi a trovare la prossima guarda morfol quelle persone sono intrappolate nel cemento morfol trasformati in un martello pneumatico una macchina ma saremo un'ottima si un'ottima non sei abbastanza grande Morphle trasformati in un camion dei rifiuti giganti guarda Morphle, anche il camion dei rifiuti robot ha già trovato due veicoli quindi chi di noi trova la prossima macchina vince! l'abbiamo trovata! la palla demolitrice! oh no! purtroppo l'hanno presa i banditi fanghigliosi! fermi, i banditi fanghigliosi! lasciate stare la casa di Troy! bambina, noi non siamo più i banditi fanghigliosi adesso siamo i banditi demolitori! siamo molto impazienti di demolire quella bella casetta no! questa è la nostra casa! Morphle, trasformati in un robot! i banditi demolitori torneranno a colpire! vedrete! tranquilli! vi aiuteremo a ricostruire la vostra casa! coraggio! smettiamo di giocare e mettiamoci al lavoro! oh! io sono il super eroe più forte del mondo infatti posso sollevare quest'auto senza problemi Morphle proviamoci anche noi io ho moltissimi poteri e guardate so volare sì aiuto, aiuto ma chi voleva soltanto giocare? stia tranquilla, non morde voglio che lo porti subito lontano da me vada immediatamente via col suo cane, signore che esagerazione siete stati meravigliosi, supereroi che devo ringraziare per l'aiuto come vi chiamate? io non le diremo i nostri nomi perché siamo i supereroi mascherati e vogliamo che le nostre identità restino segrete restituiti i trofei, furfanti sono i primi trofei della nostra vita non ve li rideremo sì adesso sono ufficialmente il ballerino di danza classica più bravo della città d'accordo, va bene potete riprendervi i vostri trofei no, no tenete pure quello che ha in mano vediamo, dice i più bravi a farsi catturare siamo campioni di qualcosa, finalmente eccoci qui in diretta con le persone che hanno salvato i trofei della città dai banditi abbiamo una sola domanda da farvi chi siete voi? non possiamo dirvi i nostri nomi perché noi siamo i supereroi mascherati e le nostre identità resti... io sono Troy io sono April morto! ecco voi signori come avete chiesto ho costruito un'orda di robot perfetto! sono felice che ne abbiate ordinati così tanti ma perché cosa ne avete bisogno se posso chiedere? niente di speciale professore e per favore continui a costruirne altri per noi Mila devi ridarmi subito la mia macchinina la tua macchinina? ma io non ho la tua macchinina Troy certo che ce l'hai tu ti ho visto prenderla prima se non me la ridai immediatamente corro a casa tua a dirlo a tuo padre Mila non ho la tua macchinina va bene io vado mi dispiace Troy aspetta! oh ecco ti qua Mila poco fa stavo andando ad una riunione importante quando tu mi hai lanciato del fango io non farei mai una cosa del genere devo andare a casa a cambiarmi ora ma non illuderti di cavartela così signorinella non ti sembra un po' strano Morphol? dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo vorrei che ti trasformassi in un elicottero Morphol guarda! Mila combina guai! Morphol quella non sono io io sono qui con te quello è sicuramente un robot dobbiamo seguirlo Morphol forse ci serve una calamita adesso portiamolo alla prigione il poliziotto Freeze saprà occuparsene meglio di lui poliziotto Freeze abbiamo catturato un robot che combinava guai in giro e immagino sia uguale a questo cosa? ma quanti robot ci sono? professore ci servono altri robot sto facendo il più in fretta possibile sono sicura che i robot siano andati da questa parte ci sono tante mila forza adesso vai a prenderci dei gelati ok dobbiamo prendere quel telecomando Morphol mi è appena venuta un'idea vieni con me guardate c'è un morphol Morphol? 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 Prendetelo! e tu dove stai andando robottino? ma cosa? coraggio robot acciuffate i banditi come al solito c'eravate voi due dietro? staremmo un po' stretti qui non è vero Stein levatevi dai piedi robot non è vero non è vero non è vero non è vero prendete andate mila no poverino ehi mila guardami non ti vedo dove sei papà? guarda su ciao che bello state volando già? anche Orphol vuole volare cosa? Orphol! sei divertente papà lasciami andare subito Orphol anche Orphol ha abito è magnifico vero? no per niente mi è appena venuta un'idea perché non fate una bella gara? come? che idea fantastica ok il primo di voi che arriva sulla cima della montagna vince pronti? partenza via! no voglio fermarmi cavolo corrono veloci come sette fanno a gara fino alla cima della montagna ho il trofeo giusto per l'occasione forza andiamo forza andiamo oh oh wow li hai appena superati oh questa è stata un'idea geniale ben fatto Morphol non mi sono mai sentito così forte forse conosco una scorciatoia vada a quella parte Morphol oh 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 li abbiamo seminati Orphol sì oh no devi fare qualcosa Orphol siamo ancora più veloci ecco la montagna Morphol troppo stanco Orphol stanco anche lui tranquillo vincerò io la gara Morphol oh no vincerò io Allora chi ha vinto la gara? io credo che siamo pari sono pari oh oh non preoccuparti Mila se devo consegnare un trofeo ne porto sempre uno in più con me per sicurezza è stata una grande avventura Morphol sì devo ammetterlo è stato molto divertente quanto mi piacerebbe avere l'occasione di fotografare un vero T-Rex nel suo habitat naturale Morphol trasformati in una macchina del tempo non penso nonä guardate Mila e Morphol arriva un branco di gallinini c'è qualcosa tra quei cespugli quelli sono anchilosauri oh Ma? Oh! Oh! Ehi, la fotocamera! Eccolo lì! Ora vado a riprenderla! Ah, la mia fotocamera! 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 Ah, la mia fotocamera!